Dopo tanto tempo, possiamo dire, è ufficiale? Sì, da questa mattina iniziano i lavori per la demolizione dell'ecomostro di Portosole. Era un obiettivo importante che si era prefisso questa amministrazione. L'impegno è stato assolto perché credo che con i fatti si dimostrano i progetti e questa è una visione rivolta verso la città dove si toglierà un ingombro che da un punto di vista paesistico-ambientale creava veramente disdoro ad un'area di assoluto pregio e quindi noi abbiamo voluto e ci siamo riusciti attraverso un rapporto convenzionale a iniziare i lavori di demolizione che dureranno meno di tre mesi e quindi riusciremo ad avere quell'area libera e riusciremo a realizzare tutta una serie di opere pubbliche legata a questi lavori. Su Portosole voglio citarne solo alcuna, la Rotonda di San Martino in prossimità della Chiesa della Mercede che riqualificherà una zona ma soprattutto metterà in sicurezza la viabilità. Poi nuovi giardini, spazi pubblici, aree pubbliche, viabilità, parcheggi. Insomma, credo che sia un risultato concreto di cui siamo orgogliosi. La gente vuole sapere naturalmente le date. Si parla quindi a questo punto di fine giugno per il termine dell'abbattimento e la costruzione del nuovo albergo quando? Beh, allora diciamo che appunto in meno di tre mesi verranno eliminati i tre fabbricati, i tre volumi. L'albergo è già stato, il progetto ovviamente è già stato assentito, si tratta di un intervento di altissima qualità che avrà ovviamente delle altezze molto più contenute, un ingombro molto più contenuto, quindi si inserirà assolutamente in modo non ingombrante e quindi dalla passeggiata ci sarà una visuale libera e il progetto e la realizzazione potrebbe durare un anno, forse un po' di più.